Ben ritrovati con Decoder, a distanza di qualche anno torniamo ad occuparci dei disturbi specifici dell'apprendimento. Ecco i nostri ospiti in studio, con noi abbiamo Rita Caffi, presidente a livello provinciale dell'Associazione Italiana di Slessia. Buonasera Caffi. Accanto abbiamo Cinzia Locatelli, prima cittadina di Cerete e presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana. Buonasera. Continuiamo con Silvia Rigoni, psicologa. Buonasera. Buonasera. Poi accanto c'è Laura Bagatta, un'insegnante, e completiamo questa presentazione con Margherita Fornoni, genitore di tre, ben tre ragazzi che hanno questa problematica che poi vedremo di conoscere meglio. Allora, innanzitutto, quello che vogliamo fare è quello di cercare di presentare meglio il tema, quindi proprio dei disturbi specifici dell'apprendimento, in quanto ci sembra di capire che anche nelle scuole e soprattutto quindi nel mondo della scuola, ma anche tra i ragazzi, nella società, non sia nota questa problematica. Innanzitutto, Rita Caffi, quando parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento dovremmo declinare quattro grandi famiglie di situazioni, giusto? Esatto. I disturbi specifici dell'apprendimento sono, come dice la parola stessa, disturbi che si riferiscono a delle difficoltà specifiche che si individuano nel percorso scolastico. Si individuano in persone assolutamente intelligenti che hanno queste difficoltà. È nata un'associazione tanti anni fa perché ci si è resi conto che questo era un problema assolutamente sconosciuto, disatteso completamente e che gli studi hanno ormai acclarato essere più o meno presente in circa un milione e mezzo della popolazione italiana, ma soprattutto nel 4-5% degli studenti. Quindi questo è un problema che riguarda tanti studenti nelle difficoltà, che sono difficoltà specifica di lettura e si chiama dislessia, difficoltà specifica nella scrittura e si chiama disortografia, che molto spesso è accompagnata anche da un disturbo più legato all'aspetto motorio che si chiama disgrafia. E poi c'è diciamo l'altro problema che si chiama dislessia, ed è legata a una difficoltà più generica di calcolo. Discalculia, scusate. Quindi sono queste grandi famiglie di problematiche. Poi è probabile che in futuro magari attraverso gli studi si possa scoprire ancora qualcosa di più, visto che tutto sommato sono situazioni che si conoscono da relativamente poco, giusto? Relativamente poco in Italia. Quest'anno l'Associazione Italiana Dislessia festeggia il suo ventennale dalla fondazione. Nel 1997 di dislessia in Italia si sapeva pochissimo. Si conosceva come disturbo perché sono degli aspetti di tipo neuropsichiatrico che riguardano una diagnosi di tipo neuropsichiatrico e pochi insegnanti eletti, pochi dirigenti conoscevano questo disturbo. Dopo vent'anni, dopo vent'anni di lavoro, di grande impegno, adesso le cose davvero stanno cambiando, anche se ci sono ancora delle sacche, diciamo, in cui questi disturbi sono davvero ancora poco conosciuti. Ecco, ci stiamo occupando di queste tematiche anche perché nei prossimi giorni sono previsti alcuni appuntamenti organizzati proprio dall'Associazione Italiana Dislessia ed è stata coinvolta anche l'Unione dei Comuni della Presonana, giusto Locatelli? Sì, esatto, abbiamo fortemente voluto, peraltro si erano così in qualche modo offerti proprio come associazione di estendere le azioni che faranno durante la settimana della dislessia non solo al territorio di Bergamo e Limitrofi, ma così cercando di coprire un territorio un pochino più ampio e noi abbiamo qui sul territorio dell'Unione sposato con grande decisione direi questa opportunità. Ritengo che è vero, adesso se ne comincia a parlare di più, si comincia a conoscere di più questa situazione nella quale si trovano molti ragazzi, molti studenti, molti alunni, perché poi cominciano da piccoli a vivere l'esperienza legata ai disagi che in qualche modo possono incontrare a scuola. Riteniamo sia doveroso anche a livello di amministrazioni sostenere e intervenire per fare in modo che la conoscenza si divulghi il più possibile, per cui lavorare sulla scuola nel nostro caso è ovviamente più un sostegno a livello di diffusione delle informazioni e un sostegno ovviamente finanziario per aiutare lo svolgimento delle attività che vengono organizzate. Ecco, Silvia Rigoni era presente proprio nel momento della costituzione di questa associazione, quindi da allora ad oggi è cambiato qualcosa? Si sono diffuse le conoscenze su queste difficoltà di apprendimento che una volta venivano catalogate in altro modo, una volta nelle scuole secondo il temperamento che dimostravano i bambini e poi i ragazzi venivano classificate dagli insegnanti e dai genitori o come per i soggetti molto miti, tranquilli, timidi, un po' introversi che non si facevano notare e si diceva che erano bambini che dovevano maturare. E di soggetti invece più forti emotivamente, più brillanti anche che non si nascondevano ma si facevano notare anche per dotti molto positive, venivano classificati come un poco i lavativi e i lazzaroni. Perché, come mi disse una preside, come mai sono così bravi fuori dalla scuola a fare tante cose e a scuola, nelle cose di scuola fanno piena, cioè nel senso che non leggono bene, leggono lentamente, scrivono con gli errori, non sanno le tabelline a memoria. Perché non si impegnano abbastanza, non si esercitano abbastanza. Per cui erano i lavativi e i lazzaroni e non quelli che avevano una difficoltà specifica, cioè settoriale, tutto il resto va bene, funziona bene, non riescono a mandare in automatico la lettura veloce e corretta, la scrittura senza errori ortografici, i calcoli a mente rapidi e veloci. Quindi ci sono un po' tutti questi problemi che poi vedremo di comprendere meglio come poi vengono affrontati. Ma nel mondo della scuola, Laura Bagatta, gli insegnanti hanno una conoscenza di cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento? Sì, oggi grazie alla legge 170 del 2010 che riguarda proprio i disturbi specifici dell'apprendimento e tutte le attività, gli strumenti che la scuola si deve dotare e grazie alle linee guida che il Ministero ha emanato l'anno dopo, veramente ci sono tanti accorgimenti che si possono utilizzare per facilitare l'apprendimento o per comunque rendere più sereno l'apprendimento dei bambini che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento. Direi che la prima cosa che l'insegnante debba fare è quella di stare attenti ai segnali che i bambini ci mandano. Ci sono bambini che fin dai primi giorni, mesi di scuola manifestano una particolare stanchezza, mal di testa, mal di pancia, nonostante tutti gli accorgimenti per rendere serena la loro vita scolastica denotano proprio sofferenza. Questo ci deve mettere subito in allarme e tenere monitorati i nostri bambini. Oggi quasi tutte le scuole hanno adottato un percorso all'interno dei cinque anni scolastici, parlo della scuola primaria, dove si fanno degli screening mirati con dei test che le specialisti ci hanno consigliato ed è una prima, diciamo così, una prima scrematura per vedere se davvero il dubbio di un DSA è fondato o no. Quindi ci sono oggi gli strumenti, ci sono le leggi, ci sono tante cose che si possono fare, soprattutto l'importante è rendere sereno l'ambiente scolastico e favorire l'autostima di questi bambini, bambini che spesso hanno un'autostima veramente molto, molto, molto bassa. O una stima comunque fragile. Molto fragile perché hanno vissuto frustrazioni, vedono i compagni che apprendono senza grosse difficoltà e loro si domandano ma perché io non riesco? E allora lì l'insegnante deve intervenire spiegando ai bambini con un linguaggio adatto logicamente all'età che cosa succede e ovviamente supportarli dicendo non è un problema, insieme ce la possiamo fare. Anche perché comunque quella è la loro principale attività. La principale attività. Per cui loro sono molto desiderosi di dare un buon risultato, di effettuare bene il loro lavoro scolastico. Sicuramente l'insegnante deve subito coinvolgere i genitori e inviarli appunto a verificare se un dubbio di DSA è vero o meno vero. Ecco, ovviamente mandandoli nei centri appositi per fare una diagnosi. Ecco, Margherita Fornon è molto importante quello che si fa a casa perché è proprio la famiglia che alla fine sostiene veramente questi ragazzi. Sì, effettivamente è una grande fatica da parte della famiglia. È vero, è una caratteristica perché non è una cosa grave, una disabilità forte. È una caratteristica però riuscire a capire quali sono le strategie per aiutarli ad avere degli ottimi risultati. Deviando un po' quello che è il classico metodo per imparare, ma utilizzando degli strumenti compensativi che possono aiutarli andare un po' più serenamente. Comunque c'è molta fatica perché probabilmente c'è tanto lavoro da fare. Sì, perché i tempi si allungano. Nello svolgimento dei compiti c'è bisogno di più tempo, la stanchezza subentra prima, alcune cose si studiano ma non vengono memorizzate da tenerle sempre pronte all'occorrenza. E dunque può essere un problema per chi ha comunque questo tipo di disturbo. Quindi probabilmente sono anche ragazzi che investono anche più tempo sullo studio rispetto dei loro coetani. Sì. Rita Caffi, dicevamo che sicuramente un tema centrale è quello di riuscire a fare una diagnosi su questi ragazzi. E probabilmente è necessario che questa venga fatta il prima possibile, giusto? Esatto, questo molto in teoria. Nel senso che ormai gli studi hanno verificato che questa è una neurovarietà, si dice. Cioè le persone hanno un cervello che funziona in tanti modi e in tanti modi diversi. Ognuno di noi apprende con le sue modalità. Anche i ragazzini che hanno questa caratteristica apprendono con la loro modalità. Quindi è importantissimo però che questi segnali, questi segnali di difficoltà che già possono essere individuati addirittura alla materna, i grossi disturbi del linguaggio che sono un pochino la base del disturbo di apprendimento, possono essere individuati, sui quali si può lavorare già nella scuola materna, debbono essere seguiti. Debbono essere, si dice, lo strumento più importante è l'osservazione. L'insegnante ha veramente questo tempo, questa sua capacità di osservare quel bambino e da quel bambino capire che ci possono essere dei segnali, che ci può essere un segnale di difficoltà, sul quale assolutamente si deve e si può lavorare. Quindi è molto importante e le indicazioni legislative sostengono questa necessità di individuare precocemente la dislessia. È chiaro però che l'insegnante, dopo l'osservazione e le linee guida del Ministero, individuano come importantissimo questo compito dell'insegnante, individuano la necessità che l'insegnante non solo osservi, ma introduca una serie di attività che porti il bambino al successo, quindi all'esecuzione del compito, e quindi individua sia le difficoltà che le strategie, punti negativi e punti positivi di questo bambino. Ma se nonostante questo lavoro il bambino continua a avere difficoltà, allora è molto importante che la scuola segnali alla famiglia e la famiglia deve, tra virgolette, rivolgersi agli, in linea di massima, l'associazione dice sempre, rivolgersi al servizio pubblico nazionale, ai servizi di neuropsichiatria, per fare la diagnosi. Quindi deputati a fare questa diagnosi sono il neuropsichiatra, lo psicologo e la logopedista. La legislazione lombarda è un pochino particolare in questo senso, nel senso che ha individuato come problematico il fatto che ci sono delle liste d'attesa molto lunghe nel servizio pubblico, che è, come dire, oberato da tanto lavoro e da tante patologie. Quindi ha individuato la possibilità per alcune equip sul territorio, autorizzate secondo dei criteri specifici che la regione Lombardia ha stabilito, ha autorizzato queste equip, dicevo, a fare la diagnosi. Le famiglie quindi, seppur accollandosi a un grave dispendio economico, possono fare questo tipo di diagnosi. Ma è molto importante che questa diagnosi poi segua una procedura ufficiale, quindi arrivi nella scuola. Ed è quello il momento in cui la scuola, la famiglia e la sanità devono insieme unirsi per riuscire a realizzare davvero il successo formativo di questo ragazzino. Ok, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione. Torniamo subito, a tra poco. Allora, riprendiamo. Questa sera ci stiamo occupando dei disturbi specifici dell'apprendimento. Ecco, parlando un po' anche con alcuni insegnanti, sembra che questa situazione sia diventata sempre più diffusa e quasi potrebbe anche sembrare che possa essere una moda degli ultimi anni. Bagatta, forse questa espressione del fatto che sia una moda è proprio ricorrente. Spesso si sente dire, ma adesso è diventata una moda, sono tutti dislessici. Questo non è vero. Dovremmo dire invece che tutto quello che una volta non era conosciuto adesso sta emergendo. Quindi abbiamo un mucchio di casi in più negli anni proprio perché la conoscenza si è diffusa. Sempre più insegnanti e genitori sanno cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento e quindi intervengono qualora se ne manifesta uno in un bambino. Per cui in realtà sta emergendo tutto quello che una volta era sommerso. Io mi ricordo i primi anni in cui ho cominciato a insegnare bambini che non riuscivano a scrivere una parola correttamente, bambini intelligentissimi, ma saltavano pezzi di parola tutte le volte. E mi dicevo cosa sarà, cosa non sarà. Poi per caso ho conosciuto la dottoressa Silvia Rigoni, sono andata a Montecatini a studiare questi disturbi e finalmente mi si è aperto un mondo. Quindi non è una moda, semplicemente stiamo dando il nome giusto a quei bambini di cui diceva prima la dottoressa che venivano chiamati lazzaroni o poco intelligenti o svogliati o immaturi. Fornoni vuole portarci magari qualche esempio di questa situazione? C'era successo anche a me questa frase, sta diventando una moda. Però in effetti ti rendi conto che no, non lo è. Perché poi comunque per un genitore non è facile sentirsi dire che il figlio è dislessico. È una caratteristica, lo sappiamo, però è comunque una fatica che c'è. E non è che se uno vuole essere dichiarato dislessico va, si sottopone i test e così in automatico lo diventa. Se lo sei risulti, se non lo sei non risulti. E poi comunque ci si accorge che anche guardare all'interno della famiglia visto che è una cosa comunque che ha a che fare anche con i familiari, magari gli antenati, ti accorgi che ci sono parenti che non sapevano di essere dislessici, ma con le cose che hai capito, hai osservato, hai guardato magari il ragazzo. E anche altre persone dicono, anch'io facevo così, anch'io leggevo cose non scritte, o anch'io saltavo i numeri quando dovevo imparare le tabelline, o una fatica, una grande fatica nell'ambito di alcune cose, soprattutto le materie scolastiche, magari molto svegli e molto brillanti nello svolgere altre mansioni che ci vuole dietro un certo tipo di lavoro, di impegno e di ragionamento. Ecco, Rita Caffi, anche un adulto può scoprire di avere qualche sintomo di alcune di queste situazioni che abbiamo già elencato? Tanti, tanti genitori della nostra associazione hanno scoperto di essere dislessici nel momento in cui hanno scoperto la dislessia del figlio, molti si sono riconosciuti in questo, molti insegnanti hanno scoperto che le loro difficoltà venivano da una dislessia, da una difficoltà di linguaggio quando erano più piccoli, molti manager, addirittura negli Stati Uniti, il numero nei paesi di lingua anglofona, il numero dei ragazzi dislessici e delle persone dislessiche è molto più alto e questo è un problema legato al tipo di lingua, di lettura e di interpretazione del segno grafico. Però hanno un'affermazione personale altissima, si dice che il dislessico in genere è più intelligente, anche questo non è vero, però è vero che questa difficoltà spinge le persone a trovare strategie, a trovare vie alternative, costruisce soluzioni assolutamente diverse. Poi lì si citano le persone famose, si cita Einstein, si cita Steve Jobs, si citano persone che davvero sono delle persone che attraverso, superando la loro difficoltà, hanno trovato strategie nuove. Poi all'interno dell'associazione molti, molti genitori hanno dato questa testimonianza e quindi si sono sentiti in grado poi di riconoscere nelle difficoltà del figlio loro stessi, ma soprattutto lo stimolo per sostenere il figlio nella scuola, sostenerlo attraverso l'applicazione della legislazione, invitare la scuola a applicare la legislazione che è dovuta a questi ragazzi, che è un diritto. Silvia Rigoni, quindi di fondo c'è quella necessità di fare conoscere sempre di più questa tematica su più livelli, con più soggetti, con la scuola, con le istituzioni, con il mondo comune delle persone? Sicuramente, questi sono i risultati degli studi di neuropsicologia che negli ultimi anni hanno avuto un balzo in avanti, perché sono i frutti del poter avere a disposizione queste nuove macchine che ci sono in campo diagnostico, le TAC, le risonanze magnetiche, eccetera, che permettono di vedere in vita il funzionamento del cervello. E quindi si è visto che tanti soggetti che avevano queste fatiche, pur essendo persone sane, normali, intelligenti, facevano fatica a leggere in modo veloce, corretto, oppure a fare i calcoli rapidamente, perché quelle piccole aree di corteccia celebrale deputate a fare queste attività funzionavano con determinate caratteristiche che, anziché aiutare l'automatizzazione di questi apprendimenti, creavano delle fatiche. E quindi si è capito come avviene l'apprendimento, cosa che, prima che ci fossero questi strumenti di conoscenza e di studio e di diagnosi, non era possibile avere. Ecco, e oggi potrebbe essere stretta una qualche relazione tra l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche come i computer e i DSA? Torno da Rita Caffi, ma poi voglio sentire anche Cinzia Locatelli. Ma sicuramente questi bambini, questi ragazzi, per molti di loro la scoperta, l'aiuto del computer è veramente stata una cosa fantastica, perché toglie a loro quella carica di fatica incredibile che è la difficoltà di automatizzare. La difficoltà di leggere è proprio una difficoltà di automatizzazione. Noi che siamo buoni lettori non ci pensiamo, leggiamo senza fare la fatica, ma se fossimo esposti ogni giorno a una lingua diversa, se dovessimo interpretare ogni giorno dei segni diversi, ecco, per i ragazzi dislessici è questo. Chi è disgrafico non ha un automatismo, non ha una velocità nella mano, nella scrittura. Chi è disortografico non ha automatizzato le regole. Allora se io devo scrivere ghiaccio, devo pensarci un attimo, ma scrivo ghiaccio, ci metto la H, dove la metto, ci vogliono le due C. Per noi è tutto automatico, tutto va a una velocità incredibile. Per loro assolutamente no. Il computer gli restituisce questo, gli restituisce la velocità, gli restituisce la capacità di fare un bello scritto. Scrivo male, ma se io scrivo al computer invece sono in grado di dare un prodotto estremamente bello. E questo è diventato per molti veramente un grande sostegno. L'importante è che il bambino cresca, sia abituato a questo strumento, non gli venga imposto. Ogni bambino, ogni dislessico, si dice dislessico a modo suo, quindi l'attenzione della famiglia e in particolare della scuola è fondamentale per trovare con lui lo strumento adeguato. E per molti, soprattutto quando sono più grandi, soprattutto alle superiori, lo strumento informatico è davvero un grandissimo sollievo e un grandissimo aiuto direi di no. è la strada giusta, è lo strumento, è la strategia adeguata. Ecco Cinzia Locatelli, coinvolta in queste tematiche in quanto in casa vive una situazione di questo tipo. E l'utilizzo dei computer sappiamo che è sicuramente un valido sostegno, un valido aiuto, come abbiamo appena sentito. Decisamente sì, mi permetto magari di così lanciare un appello alla scuola in questo senso, perché è vero che gli strumenti compensativi sono un grandissimo aiuto, è vero che diventano un aiuto nel momento in cui, in base alla mia esperienza, il ragazzino dislessico è in grado di utilizzarli al meglio. Per cui, ad esempio, nel mio caso, è intervenuto l'utilizzo del computer alla scuola secondaria e i primi tempi è stata comunque una fatica perché non conosceva il software che doveva utilizzare, perché comunque non aveva una certa velocità nell'utilizzo di questo strumento con il quale approcciava per la prima volta. Quindi sarebbe bello, magari, che si cominciasse un pochino prima a prescindere dal fatto che lo studente sia dislessico o meno, ma ad insegnare ad utilizzare gli strumenti tecnologici con una certa fluidità in modo che, per chi è una necessità, chi ha la necessità di farlo, lo possa fare in modo agevole, ma allo stesso modo sono competenze che possono comunque sempre far comodo a chiunque. Fornoni, vuole portarci una qualche sua esperienza su questo tema? Sì, secondo me il computer davvero può fare la differenza, perché comunque possono utilizzare i libri digitali, tra l'altro, tra virgolette, volevo dire anche che a me, personalmente, come genitore, mi ha aiutato molto andare agli incontri dell'Associazione della Dislessia, perché ho potuto capire soprattutto bene cos'era effettivamente, come ci si poteva muovere, come consegnare la diagnosi alla scuola, cosa pretendere dalla scuola, cosa invece serviva fare nel miglior dei modi, perché bisogna creare questa rete con la scuola, la famiglia, gli esperti, e comunque anche l'uso degli strumenti compensativi ha fatto la differenza, nel senso che il ragazzo si può rendere un pochino più autonomo, perché esistono i libri digitali che riesci ad averli tramite l'Associazione della Dislessia, esiste il programma che si chiama la Sintesi Vocale, che loro utilizzano per farsi leggere dal computer il libro, perché l'alternativa è il genitore che si siede vicino a leggere tutte le parti che devono studiare, oppure il computer che fa questo lavoro per loro. Dunque, è un aiuto per renderli autonomi, per dire va bene, ok, io non riesco a leggermi da solo tante pagine, perché se leggo tutta l'energia che ci metto ne resta talmente poca che per svolgere l'esercizio non riesco, faccio più fatica, questa parte che è inutile perché poi l'importante è arrivare allo svolgimento dell'esercizio, la parte della lettura me la può fare qualcuno d'altro, se non ho la persona vicina che legge per me, in questo caso il computer è fondamentale, perché può essere veramente uno strumento che ti dà una mano. Molto bene, Laura Bagatta, dall'altra parte il punto di vista dell'insegnante? Il punto di vista dell'insegnante è che gli strumenti compensativi sono anche una grande risorsa per tutti gli allunni, quindi tante volte è ben usarli proprio con tutti, usare la sintesi vocale quando per esempio si fa il testo al computer in modo che tutti possano riascoltare è uno strumento che ormai per esempio io uso normalmente tutte le settimane, in modo che davvero è uno strumento per tutti, non solo per quei bambini e è uno strumento utile perché poi posso registrare, posso salvare e registrare la mia registrazione vocale e risentirla in qualsiasi momento, quindi questo serve. Ai bambini piace molto tra l'altro perché è fatta con tutta la classe, sentire il computer attraverso la LIM che legge quel brano e alle volte scherziamo anche sugli errori che il computer fa di lettura tra principi e principi c'è solo uno spostamento di accento e il computer fa questi errori quindi si ride e a loro piace molto quindi diventa uno strumento che prima è uno strumento compensativo diventa uno strumento di classe per tutti per poter lavorare e lo stesso per esempio gli schemi, le mappe, le tabelle che possono essere utili per l'analisi grammaticale piuttosto che per le tabelline eccetera, darli a tutta la classe in modo che chiunque può tirar fuori io la chiamo la busta degli aiuti può usarla in qualsiasi momento se non ricorda una regola se ha dimenticato qualcosa eccetera quindi si socializzano questi strumenti davvero con tutta la classe è quello che anche nelle linee guida il ministero ha raccomandato ecco Silvia Rigoni vuole aggiungere qualcosa su questi supporti? Sono fondamentali sono fondamentali per permettere a questi ragazzi di fare i loro percorsi scolastici e di non buttare alle ortiche i talenti e le abilità che pure hanno perché si è visto che per alcuni ambiti in cui loro fanno più fatica di altri hanno in genere sempre delle abilità più sviluppate più alte in altri ambiti quindi il compito della famiglia e della scuola è proprio quello non solo di rilevare le aree che gli fanno fare fatica e di aiutarli di sostenerli ma anche di cercare di capire quali sono le aree che a loro escono meglio che agli altri in modo di indirizzarli sia per il percorso scolastico che poi per l'attività professionale in questi ambiti in cui loro eccellano sono quindi i ragazzi che non devono precludersi alcun tipo di futuro noi ora ci fermiamo per una breve introduzione a tra poco e parlando di DSA di disturbi specifici dell'apprendimento subentrano anche alcune situazioni che sono legate all'autostima stessa di questi ragazzi giusto? E come? E come? Perché questo percorso scolastico in cui questi soggetti fanno più fatica degli altri a raggiungere delle prestazioni adeguate positive eccetera rischia di causare in loro il dubbio di non essere adeguati di non essere competenti di non essere capaci di fare troppa fatica e infatti io sostengo sempre che alla fine della fiera il problema più grosso delle difficoltà specifiche di apprendimento è insinuare nei soggetti il sospetto di non essere capaci e quindi minare la fiducia in se stessi quindi non solo il loro livello di autostima ma anche di mettere a rischio la fiducia nelle proprie capacità di modo che poi gli resta pervasiva per tutta la vita in tutti gli ambiti per cui rischiano poi di non proporsi e anche di non cimentarsi in tante situazioni perché hanno alle spalle queste frustrazioni scolastiche queste esperienze negative scolastiche quindi le ricadute psicologiche di questa difficoltà soprattutto se non è riconosciuta e gestite in modo corretto e adeguato è pericolosissima per l'immagine di sé che il soggetto si porta poi dietro tutta la vita e quindi rischia proprio di minare una cosa importantissima che è la fiducia nelle proprie capacità quindi è importantissimo che la scuola gli insegnanti gestiscano nel modo migliore sia la rilevazione della fatica sia la presentazione ai compagni alla classe la gestione della classe con questi bambini prima ragazzi poi che presentano queste fatiche e che adesso hanno diritto in base alla legge 170 a delle forme di aiuto che se non sono gestite bene dai docenti nella relazione con i compagni possono diventare un altro motivo di esclusione anziché di inclusione e di cooperazione nel lavoro collettivo delle classi Rita Caffi ci sono più livelli di aiuto che poi alla fine vengono poi garantiti le linee guida che derivano appunto sono le linee applicative del decreto ministeriale della 170 danno tanti suggerimenti indicazioni indirizzi agli insegnanti ci sono tanti aiuti ci sono al di là del computer ci sono le tabelle ci sono i formulari c'è l'attenzione di un insegnante che deve passare dal fatto di proporre alla classe queste strategie di apprendimento non come forme di aiuto bensì come un diritto come l'espressione di una diversa capacità quando andiamo nelle scuole spesso si chiede ai bambini ma tutti disegnate bene no lui è bravissimo noi no ma tutti suonate lo stesso bene il flauto no no lui lo fa bene gli altri no ma tutti sapete fare delle cose straordinarie a ginnastica no ecco questo è evidente per i bambini qualcuno scrive bene qualcun altro no quindi questa diventare proprio un'espressione di una caratteristica e quindi su quella caratteristica si danno gli strumenti più adeguati è chiaro che man mano che il ragazzo cresce deve se questo suo disturbo viene recepito e viene seguito si afferma la sua autostima viene corroborata e soprattutto ha una buona valutazione di se stesso se invece questa cosa non succede succede quello che diceva la dottoressa questo a più livelli soprattutto perché a livello della scuola primaria ormai direi che moltissimo è stato fatto soprattutto a Bergamo noi siamo davvero come dire molto fortunati ad avere un ufficio scolastico che da tanti anni sta facendo corsi e sta preparando gli insegnanti alla scuola secondaria di primo grado ci sono più difficoltà e alla scuola superiore diciamo che ancora c'è molto da fare l'università si sta molto aprendo stiamo diventando i ragazzi dislessici stanno davvero entrando in università all'università di Bergamo ce ne sono molti ci sono diversi atenei che adesso accettano e soprattutto stabiliscono con questi ragazzi un percorso quindi dalla scuola primaria all'università si fa un patto che è questo piano didattico personalizzato che scuola famiglia devono redigere stringere insieme proprio una capacità di fotografare le possibilità le difficoltà di quel ragazzino ma di individuare soprattutto le strategie questo è una richiesta fondamentale della scuola che a tutti i livelli deve assolutamente essere perseguita e a proposito di emozioni voglio ricordare che proprio qui a Rovetta mercoledì 4 ottobre ci sarà una serata dedicata agli insegnanti e proprio il titolo è indicativo DSA emozioni da leggere insieme tutto quello che passa dentro una famiglia e che passa dentro un ragazzo quando scopre di avere questo disturbo e come lo può affrontare insieme abbiamo proprio pensato a questo titolo insieme ad altri genitori proprio perché dobbiamo sentirci uniti e sorretti e l'associazione è diciamo come diceva anche Margherita prima è proprio un ambito in cui i genitori si stringono un po' e cercano di darsi una mano ecco Laura Bagatta le dinamiche di classe contano molto anche per questi ragazzi le dinamiche di classe contano moltissimo e qui secondo me è molto importante che l'insegnante si faccia innanzitutto promotore di conoscenza per cui spesso fin dalla per esempio fin dalla prima classe elementare parlare di questi disturbi come disturbi che tante persone possono avere normali come tutti i disturbi e far notare che tutti abbiamo dei punti di debolezza dei disturbi e dei punti invece di forza quindi quando si a furia di sentire parlare come di una cosa normale il fatto che ogni essere umano ha dei disturbi c'è chi ha i denti storsi c'è chi ha i piedi piatti c'è chi come me non ci sente bene ognuno ha i suoi disturbi questo li rende molto più sereni perché i bambini capiscono che non sono soli che non sono delle bestie tra virgolette rare ma che tutti abbiamo delle tra virgolette delle fragilità delle debolezze ma che possiamo aiutarci prima di tutto anche dicendolo chiaramente in modo che tutti possano saperlo io nel mio percorso come insegnante ho visto spesso che a furia di parlare di dislessia di disortografia di discalcolia alla fine sono proprio i bambini stessi che vengono a dire che dicono davanti a tutti i compagni io sono dislessico quindi si apre un mondo e ho notato proprio che i compagni di classe diventano proprio degli aiutanti di questo bambino nasce proprio un sentimento di solidarietà e di aiuto per il bambino che ha un disturbo specifico dell'apprendimento e fagli vedere che non è la fine di tutto un problema insormontabile attraverso appunto gli strumenti compensativi computer, tabelle eccetera ma soprattutto imparare un po' anche a ridere dei nostri difetti come io rito della mia sororità ridiamo anche del tuo errorino non ti preoccupare hai fatto un errore di ortografia ne hai fatti tanti pazienza l'importante è che tu ci hai messo tutto il tuo impegno ricordo anche che nelle linee guida si parla anche di valutazione individualizzata per i ragazzi che hanno un DSA per cui io tengo anche sempre conto nella valutazione che questo bambino ha uno zaino più pesante degli altri da portare perché oltre al diario e ai quaderni e alle biro ha anche la dislessia nello zaino in ete vengo anche logicamente conto durante la valutazione Fornoni e Lucatelli alcuni proprio aspetti legati alla vostra esperienza diretta sulla fatica che fanno questi ragazzi e poi come vivono questa situazione questa fatica è vero il mondo della scuola come diceva Laura adesso sta muovendosi però a volte la fatica è proprio anche quella anche pur avendo la diagnosi anche pur averla consegnata dunque i professori lo sanno la fatica a volte nel ragazzo di accettarlo in quanto caratteristica ma invece sentirsi in difetto perché gli altri non hanno bisogno di usare il computer e invece io ho bisogno di usare il computer cioè ti accorgi proprio anche in base alle persone che incontri all'interno della scuola e alla sensibilità di ognuno degli insegnanti può fare la differenza se l'insegnante riesce a far passare come diceva Laura come una caratteristica come tante altre dovrebbe diventare tutto più normale è come dire un miope non vede da lontano ha bisogno degli occhiali e nessuno ha da dire togli gli occhiali perché perché anche io allora devo mettere gli occhiali è una cosa che non è facile pur avendo la diagnosi pur essendo arrivati in tempo pur avendo consegnato tutto ti accorgi proprio che dipende dalle persone che incontri davanti proprio la loro sensibilità la loro professionalità quello che ha voglia di rimettersi in gioco quello che ci crede fino a un certo punto che comunque anche se la diagnosi è stata consegnata ritiene che secondo lui ce ne sono troppi può essere solo che un fatto di moda come tornando al discorso di prima e questa cosa dipende perché anche nell'alunno percepisce si rende conto di come viene valutato oppure magari frasi dette sì vabbè non è oggettivo questo voto perché è stata utilizzata la tabella oppure è stato facilitato in quella verifica allora togliamo un voto cioè sono tutte cose che sembrano stupidate ma che fa la differenza specialmente nei ragazzi in fase di evoluzione di crescita soprattutto quando subentra il periodo dell'adolescenza quei periodi di cambiamento fondamentale dove è molto importante riuscire a stare in un clima di serenità poi comunque la vita è questa cioè le difficoltà al di là dell'adolescenza ci sono in tanti ambiti dunque proprio quello cioè sapere affrontare ogni difficoltà con la massima serenità e questo ci si augura che sempre di più vengano a conoscenza tutti ci si aggiorni tra virgolette per veramente renderli più più tranquilli possibili Lucatelli io ho avuto la fortuna di avere delle insegnanti alla scuola primaria che si sono accorte di questa difficoltà di mio figlio prestissimo in seconda pertanto abbiamo iniziato presto questo questo percorso certo è che nel momento in cui lui ha saputo che ha in qualche modo inquadrato qual era la situazione per lui è stato un sospiro di sollievo quantomeno dava una spiegazione logica ad una serie di situazioni nelle quali si sentiva per lo più inadeguato sottolineo anch'io la grandissima importanza dell'approccio dell'insegnante sia per lavorare sul gruppo classe intero che nei confronti specifici dell'alunno la grande importanza il grande lavoro che bisogna fare anche a casa per continuare a stimolare l'autostima di questi ragazzi che è vero tu a casa gli dici stai tranquillo va tutto bene noi sappiamo come fare attuiamo una serie di strategie che ci permettono di raggiungere gli stessi risultati che raggiungono gli altri certo è che poi nel momento in cui va a scuola e vede che gli altri impiegano di meno di lui c'è sempre un po' questa sensazione di inadeguatezza per cui il lavoro è costante costante non si finisce mai insomma però ecco grande davvero grande importanza al lavoro degli insegnanti speriamo che sempre di più raggiungano questa massima sensibilità che permette a tutti di vivere serenamente l'ambiente scolastico ecco Rita Caffi forse ancora degli appuntamenti da ricordarci volevo dire proprio a questo proposito a proposito di scuola di insegnanti di collaborazione di conoscenza del problema di relazione con la classe proprio per la valle proprio con appunto con il sostegno e il patrocinio dell'unione dei comuni è stato fatto questo passaggio solo per gli studenti della scuola di Rovetta in cui i ragazzi avranno la presentazione un gruppo di studenti della scuola avranno la presentazione di che cosa sono i disturbi da parte di un nostro formatore di una logopedista e mia vedranno poi e nei giorni successivi un film che è Stelle sulla terra nel quale proprio si racconta la storia di un bambino dislessico e poi successivamente verranno aiutati a comprendere meglio adeguare diciamo così questa proposta del film in particolare andando a vedere quali sono gli strumenti compensativi dispensativi che questi bambini usano oltretutto sempre qui a Rovetta mercoledì pomeriggio faremo proprio un seminario dedicato agli insegnanti della scuola materna perché abbiamo pensato che sia importante dire che ci sono dei giochi di parole da piccoli che poi aiuteranno a leggere da grandi proprio perché l'individuazione del disturbo può cominciare a dare dei segnali già alla scuola materna e poi per tutti gli insegnanti per tutti i genitori noi invitiamo tutti a partecipare ai nostri incontri noi teniamo ormai da dieci anni nell'auditorium della scuola di Laglio con la divulgazione delle nostre iniziative da parte dell'ufficio scolastico territoriale di Pergamo teniamo otto sette otto incontri ogni anno il secondo lunedì del mese il primo appuntamento è il 9 di ottobre questi sono incontri a cui non ci si deve iscrivere basta partecipare sono aperti a genitori insegnanti specialisti a quanti vogliano essere informati su questo disturbo e quest'anno proprio andranno dalla materna alla primaria alla secondaria di primo grado alla valutazione e sarà presente la professoressa Giannellini proprio dell'ufficio scolastico territoriale di Pergamo fino ad arrivare a parlare sia degli strumenti compensativi nella scuola secondaria di primo grado che alla testimonianza di un ragazzino che verrà un ragazzino dislessico adolescente quindi questi sono i nostri appuntamenti proprio e raccomando a tutti di visitare il nostro sito che è aiditalia.org dove ci sono appuntamenti e informazioni per tutti quanti Silvia Arrigoni è bene che tutti questi ragazzi e ragazze che vivono questa situazione non si sentano per qualche motivo con un futuro limitato solo a certe attività giusto? Assolutamente assolutamente ormai c'è un elenco lunghissimo di persone importanti che nella loro vita sono riusciti ad avere riconoscimenti d'altissimo livello pur avendo delle difficoltà significative nelle automatizzazioni di alcune procedure per cui la famosa scrittura specchio di Leonardo da Vinci non è altro che la scrittura spontanea di tutti i mancini e gli ambidestri se non che nel 1500 Leonardo da Vinci si è potuto permettere il lusso di scrivere così tutta la sua vita adesso invece i bambini in prima elementare loro si rendono conto che gli viene meglio scrivere a specchio piuttosto che come gli dice la maestra la mamma il papà e leggere anche a specchio però vengono subito bloccati e si dice no non si scrive così si scrive nell'altro modo e ci restano male e per loro è una difficoltà comunque nonostante le fatiche che hanno ormai l'elenco da Einstein Steve Jobs questi i due fari dell'informatica nostra sia Bill Gates che Steve Jobs non hanno mai nascosto che loro a scuola non erano assolutamente degli ottimi studenti anzi riuscivano a malapena passare all'anno dopo e prima di morire ha reso ufficiale che lui era un dislessico Steve Jobs e come lui un sacco di altri da John Lennon a tutti quanti adesso non è che tutti i dislessici poi diventano Einstein Leonardo Da Vinci e Steve Jobs oppure Walt Disney e il disegnatore di Schultz che dal niente costruiscono anche imprese economiche perché c'è anche un ramo di dislessici che hanno il pallino dell'imprenditoria dal niente una volta quando potevano scappare da scuola quanto prima ma abbandonare quell'ambito che era una penitenza terribile da nulla quasi semi analfabeti riuscivano a costruire imperi economici perché avevano il pallino il genio del commercio per cui assolutamente sia le famiglie sia i soggetti stessi che le famiglie che i genitori e la scuola non devono mai smettere di investire nel cervello dei loro figli di questi ragazzi perché è un terreno estremamente fertile e produttivo e si riescono a raggiungere livelli molto alti Rita Caffi proprio velocissimo chiuderemo questa trasmissione con lo spot che è stato realizzato dall'associazione italiana di Slissia col patrocinio della provincia di Cosenza nella quale proprio in 30 secondi vi raccontiamo che quegli geni quei geni erano dei bambini che non si può mai smettere di far sognare i bambini perché possono diventare sempre qualcosa di grande grazie grazie ai nostri ospiti in studio grazie a voi ma guardate questa comunicazione dell'AID grazie e buona serata tuo figlio ha particolari difficoltà nella lettura nella scrittura o nel calcolo allora potrebbe essere dislessico l'AID associazione italiana di Slissia può aiutarti a comprendere questi segnali e supportarti molte persone di successo erano dislessiche ma questo non gli ha impedito di realizzare i propri sogni AID può aiutarti in 93 sedi in Italia www.aiditalia.org www.aiditalia.org